Allora, iniziamo questa seconda parte della nostra serata ricordando un gruppo molto famoso, Gli Abba. Gli Abba è un gruppo musicale pop svedese nato nel 1970 che ha ammiettuto successi su successi fino all'anno 1982, l'anno in cui si è sciolto. Ovviamente tutti quanti conoscono il valore degli Abba che sono riusciti a vendere in questo periodo di loro attività oltre 400 milioni di dischi. È curioso ricordare che il nome del complesso Abba deriva da un acronimo formato proprio dalle iniziali dei nomi dei membri che si chiamano, perché non sono morti, ci sono ancora anche se non cantano più insieme, Agneta, Benny, Bjorn e Andy Free. Questa sera la nostra banda vi farà ascoltare una pubblicazione del 1983 che è un inno al piacere di poter suonare, cantare e ballare insieme. Ovviamente è stato arrangiato per banda da Dennis Armitage ed ecco che vi presentano Thank you for the music. Ritorno in pista il maestro Marco Scassa. La banda è pronta. La banda è pronta. Thank you for the music. Ghiabba! La banda è pronta. La banda è pronta. La banda è pronta. La banda è pronta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.